carissimi amici di medico snake un saluto a tutti allora innanzitutto scusatemi se sono mancati gli auguri natalizie perché liberamente ragazzi non ce l'ho fatta sono riuscito a programmare tutti i video domenica per domenica però quel video lì proprio non sono riuscito a prepararlo perché ho avuto veramente da fare ma molto molto da fare allora reso conto in questo fine anno ho fatto dei piccoli upgrade per quanto riguarda l'attrezzatura fotografica infatti guardate un po qui cosa ho messo momentaneamente fuori uso la mia canon che ha registrato i video fino a qualche settimana fa ma non è solo lei poi dopo video modello ho beccato anche lui l'ho trovato qui in giro per casa che era abbandonato e questo è un samsung galaxy core prime da questo video in poi registrerà tutti gli audio dei miei futuri video non solo di questo ma anche dei miei futuri video che arriveranno allora la fotocamera che mi sta riprendendo in questo momento è una reflex ovvero una nikon di 5200 che avete avuto modo di vedere nelle stories di instagram quindi vi ho portato anche qualche scatto vi ho aggiornato man mano poi magari arriverà un video dedicato perché questa fotocamera ha veramente molto molto da offrire e con questo video cosa voglio fare ragazzi voglio ringraziarvi tutti per questo anno perché abbiamo superato abbondantemente gli 8000 iscritti al canale e di questo non posso far altro che ringraziarvi vorrei ringraziarvi uno ad uno però non è possibile ma lo faccio con questo video e oltre a ringraziarvi ragazzi voglio farvi anche i miei migliori auguri di buon fine anno 2020 e buon inizio anno 2021 sperando che l'anno 2021 non voglio dire sia positivo perché sarebbe un controsenso vista la situazione ma che sia migliore un po per tutti noi e che ci siano beh come dire non so nemmeno io come descrivere questo anno perché è stato un anno veramente troppo brutto sono accadute delle cose a parte la pandemia anche me personalmente però devo dire un po di cose brutte un po di cose buone però devo dire che sia uno io personalmente sono riuscito a superare questo anno quindi ragazzi spero che anche voi sia stato così quindi ragazzi rinnovo nuovamente i miei auguri per buon anno 2020 e buon inizio anno 2021 quindi ragazzi qua nei commenti aspetto tutti i vostri auguri dai fatemi sapere fatemi gli auguri vi risponderò a tutti e oltre a questo lasciate tutti i vostri pollicioni in su se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al canale perché a meno dai a meno per l'anno nuovo vorrei riuscire ad arrivare ai 10.000 iscritti e sarà un altro bel traguardo quindi ragazzi lasciate tutti i vostri pollicioni in su iscrivetevi attivate la campanellina delle notifiche sì ok sta passando il treno lasciamolo passare beh voglio ricordarvi che non sono nella mia nuova casa ma so dai miei quindi il treno era d'obbligo che passasse allora ritorniamo a noi il treno è passato sperando che non ne passino altri seguitemi anche su instagram che ho c'è la mitico snake ma ve lo ricorda anche l'animazione quindi ragazzi noi ci vediamo con un nuovo video subito nei primi giorni di ovvero la prima domenica di gennaio 2021 sarà forse un unboxing forse no un video normale non lo so ma fatto sta che aspetto un pacco quindi ragazzi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video ragazzi auguri a tutti nuovamente auguri di buon fine anno 2020 e buon inizio anno 2021 ragazzi auguri a tutti e auguri anche a tutto il tubo e noi beh ci vediamo domenica un saluto a tutti da Raffaele ciao ciao